L'altra salla è quella di donna Margherita Peducci, nata a Zoni e morta il 15 ottobre 1795. La signora Anna Puglia Abbandoniamo la navata dei preti per entrare nella navata degli altestati. Sarebbe questa la gallegnia nella quale nel 1656 sono stati. Sarebbe ripensati. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.